Gianni Mattera, dopo l'ingendio al ripetitore da qualche giorno, Forio è praticamente senza le reti RAI e Mediaset. Tu hai proposto una soluzione, quando meno temporanea, per riaccendere le tv nel territorio di Forio. Sì, come è noto a tutti la notizia presa dalla stampa, circa una settimana fa c'è stato un incendio pare doloso, anche doloso, alla centralina e al ripetitore della RAI che si trova in località Marecoco. Ciò ha comportato, chiaramente di fatto, la sospensione del segnale tv sia per quanto riguarda i canali della RAI che di Mediaset. Ricordiamo che noi, purtroppo, nel comune di Forio ci troviamo in una zona schermata dal promontorio di Zaro, chiaramente, che non riusciamo a captare i segnali della tv direttamente dai ripetitori della terraferma. Ciò, come dicevo, ha comportato l'interruzione del segnale, creando di fatto un disagio ai cittadini del comune di Forio. Siccome che io già in passato ho avuto modo di, come dire, interloquire con la RAI, in quanto, appunto, essendo noi soggetti a questo ripetitore, già in passato sul territorio del comune di Forio abbiamo, come dire, sofferto un attimino qualche svantaggio rispetto al resto degli abitanti dell'isola Dischia. Voglio fare un esempio, ultimo, quando c'è stato l'adeguamento delle reti RAI con la trasmissione di questi nuovi canali RAI 4, RAI 5, RAI Movie, RAI History e RAI Sport 24, mentre sul resto del territorio nazionale questi canali venivano già visti, già cappatati, sul comune di Forio si continuava a vedere soltanto RAI 1, RAI 2 e RAI 3. E' bimodo all'epoca già di interloquire, come dicevo, con i versi della RAI e finalmente dopo tanto, tanto, tanto tempo riuscimmo ad avere anche noi questi canali. Siccome che da quello che ho potuto capire, questo danno che è stato provocato da questo incendio è un danno abbastanza grave, quindi i lavori si protrarranno per lungo tempo, avevo proposto anche tramite una mia amicizia, una persona che conosco, che ha contatti con la RAI, per ovviare a questo disagio sarebbe il caso, penso, e non penso che sia una cosa così difficile. La RAI è in possesso di questi ponti mobili, cioè sono dei ripetitori su gomma che la RAI utilizza quando ne ha bisogno per effettuare anche trasmissioni in diretta. Io penso che non ci sia nessuna difficoltà a poter portare un mezzo di questo sul territorio del comune di Forio, si potrebbe trovare tranquillamente un posto dove questo ripetitore mobile possa fungere da ponte provvisorio e consentire agli abitanti e agli utenti, che ricordo pagano regolarmente il canone come tutti quanti gli utenti della terraferma e anche del resto dell'isola, diciamo di poter fruire del segnale RAI e della Fininvest in attesa che venga ripristinato il servizio, venga ripristinato il ripetitore della località di Marecoco.